Grazie molto rapidamente, permettetemi innanzitutto di ringraziare come dice il segretario la ditta perché ha consentito a molti di noi per la prima volta di accedere al Parlamento ma non tanto per questo ma per il modo con cui l'abbiamo fatto perché per chi almeno come me insomma ma come molti altri abituato a vivere in un rapporto molto fecondo e molto difficile in questo tempo con il consenso della gente e aver fatto le primarie ci ha dato un po' di nobiltà almeno in questa nostra esperienza. Però questo mi consente di dire una cosa in più e cioè che avendo vissuto questa campagna elettorale molto intensamente e noi l'abbiamo fatto anche per la coincidenza della campagna elettorale delle regionali che ci ha spinto ad essere ancora più presenti sul territorio insomma abbiamo visto quanto in poco tempo sia stata, permettetemi anche qui un termine un po' esagerato ma anche spazzata via un po' di nostra credibilità. Il vento della protesta nei confronti della classe dirigente era forte che a nulla ha giovato nemmeno la nostra militanza la nostra vicinanza alle collettività che spesso siamo stati chiamati ad amministrare ed è stata un'angoscia per me ma per molti altri con i quali ho parlato non ha giovato nulla raccontare anche le nostre storie personali di fronte alla forza della protesta e sarebbe grave davvero se non l'analizzassimo fino in fondo non lo faremo qui ma insomma l'abbiamo fatto in parte in direzione ma eravamo un po' credo che ci saranno altre occasioni e speriamo ci saranno presto però questo mi fa dire una cosa è che se posso dare una lettura molto rapida della protesta e vorrei escludere quella che non appartiene al nostro mondo anche se essa si è annidata molto dentro le nostre case segretario quando siamo andati a chiedere i voti abbiamo trovato la forza della protesta dove non immaginavamo fosse e quella protesta è pronta anche a rientrare a condizione come diceva Dario e in molti altri che noi riscopriamo un po' di orgoglio un po' di protagonismo politico, di iniziativa politica, di serietà, di capacità di innovare nel linguaggio insomma dobbiamo fare uno sforzo molto profondo credo tutti noi e una parte di quella protesta ci chiede di essere protagonisti del cambiamento l'ha detto spesso il segretario anche in campagna elettorale se è così una parte non rientrerà e io credo sarebbe superficiale se noi considerassimo molto come dire di breve periodo quello che è nato nel nostro paese in questi mesi non ne capiamo l'evoluzione probabilmente sarà una sorpresa anche la sua evoluzione ma insomma considerarlo un fenomeno transeunte di breve periodo credo sia un errore e quella protesta molto abbiamo detto che nasceva dal disagio sociale dalla crisi in cui il nostro paese che il nostro paese attraversa ma quella protesta ci cambia anche un po' le priorità e la priorità principale è la sobrietà della politica ora lo dice uno che viene dal Lazio insomma e quindi abbiamo dato abbiamo ci abbiamo messo del nostro ecco da questo punto di vista anche a livello regionale però credo che su questo noi dobbiamo fare una riflessione molto profonda e qui dobbiamo innovare nella chiarezza delle proposte Tocci ne faceva alcuna ne ho ascoltato altre riflessioni insomma e dobbiamo essere anche veloci il tempo non è una variabile indipendente rispetto a quello che riusciremo a dire al paese anche in questi giorni ci dobbiamo abituare forse a ragionare anche di meccanismi nuovi ho sentito dire qui e il mio ancoraggio al novecento che insomma tento un po' di tagliare ma si fa un po' fatica a volte insomma alcune radici sono robuste quindi è faticoso ha fatto dire anche che la scelta del governo delle camere e del Parlamento è scisso da quella del governo non è mai stato così nella storia della Repubblica nella storia della Repubblica la scelta delle presidenze delle camere dei vertici delle istituzioni è stata sempre figlia di un sistema insomma che andava poi a declinarsi nell'attività di governo beh se questo è vero e lo vedremo naturalmente nelle prossime ore credo che noi non possiamo abiticare con molta facilità al governo dei processi che dentro il Parlamento saranno osservati dal Paese molto più rapidamente di quanto non sarà osservato il governo e anche questo significa rivendicare un po' d'orgoglio io non so le forme e i modi con cui il partito la delegazione che ci apprestiamo a costituire lo farà però anche questo significa recuperare un po' d'orgoglio noi siamo in grado di fare le cose che il Paese ci chiede e non dobbiamo aspettare che lo facciano gli altri ed immaginare che a qualcuno degli altri adesso qualcuno ha parlato della follia di lasciare la presidenza di una delle camere al Popolo della Libertà ma insomma a me spaventa che la guida delle camere possa essere invece dall'altra parte cioè quella del Movimento 5 Stelle ancora un glimardello di una politica che è fatta molto di tattica e di cinismo e non diciamo che accuore il bene del Paese ma che ancora accuore la demolizione successiva del nostro sistema democratico ecco io spero che noi rifletteremo molto attentamente su questo sono convinto naturalmente che la presenza di un Parlamento rinnovato ci possa dare spinta e coraggio per affrontare un tema una stagione molto difficile ma rispetto alla quale guardate ci guarda soprattutto il nostro elettorato quelli che sono rimasti con noi posso usare un termine commerciale che non si usa naturalmente in questi casi e ve ne chiedo perdono ma sono molto meno fidelizzati di quelli che sono rimasti con Berlusconi c'è ancora una parte molto critica che ci osserva che è disponibile a seguirci a stare con noi ma che chiede a noi una chiarezza che sicuramente non è più rinviabile